Il tempo di bomba d'acqua da pecchio allagata alla zona industriale, paura anche a Cantiano, già ferita dall'alluvione. Canone di locazione in arrivo aiuti alle famiglie in difficoltà a quasi 600, le domande arrivate al Comune di Fano verranno erogati oltre 900 mila euro per il pagamento degli affitti. Alluvione, rincari, speculazioni e vendite online, aziende agricole e commerciali in calo nella provincia di Pesero Urbino, bene i dati sul turismo con l'aumento di presenze di arrivi, il punto con il direttore di ConfCommercio Marche Nord, Amerigo Varotti. Nuove opportunità per gli studenti che si iscriveranno al Polo 3, attivato nuovo indirizzo di studi su gestione delle acque e risanamento ambientale. Cani, gatti, conigli e cavalli, Don Giorgio Giovanelli ha benedetto gli animali in piazza 20 Settembre a Fano. Filmati e storie inedite della Fano che fu venerdì 20 gennaio, trasmetteremo in prima serata il documentario con foto e video dell'archivio di Del Bianco per i 50 anni dello studio. Lo sport torna protagonista su Fano TV dopo il telegiornale, prenderà il via al nuovo programma condotto dal giornalista Andrea Maduzzi, tra poco in studio tutte le anticipazioni. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla notizia. In primo piano il maltempo con la bomba d'acqua caduta poco dopo le ore 13 ad Apecchio, dove è esondato il fiume Biscubio, provocando allagamenti nella zona industriale. Paura anche a Cantiano. Sono bastati 20 minuti di pioggia intensa, scritto il sindaco Piccini, per evidenziare la pericolosità di un territorio fragile, compromesso nella sua integrità funzionale e quindi nella sua sicurezza. L'alluvione del 15 settembre scorso ha proseguito, ha lasciato danni enormi che necessitano di interventi urgenti, quali non possono aspettare le tempistiche della burocrazia. La mancata reggimentazione delle acque nei campi, l'assenza di adeguati argini negli alvei dei fiumi, l'assenza di cunette di raccolta delle acque, la completa ostruzione di tombini e delle reti fognarie, potrebbero diventare causa di problematiche emergenziali, anche in condizioni di eventi meteorologici ordinari. Per questo continueremo a richiedere un rapido trasferimento di risorse da parte della regione ai vari soggetti attuatori coinvolti. Stiamo monitorando il territorio con indipendenti comunali, marche multiservizi e i vigili del fuoco. Disagi anche nel territorio di Urbino, dove le vaccinazioni anti-covid sono state sospese per tutta la giornata a causa della pioggia che ha reso indisponibile la struttura. I prenotati sono stati avvisati telefonicamente e potranno presentarsi nei prossimi giorni senza appuntamento in qualsiasi sede dei punti vaccinali dell'Ast. A Fano invece ci hanno segnalato alcuni disagi sulle strade, ad esempio nel parcheggio dietro alla stazione ferroviaria, dove si sono formate pozzanghere come laghi, ci ha scritto un telespettatore. Intanto la protezione civile regionale ha emesso un nuovo messaggio di allertamento di livello giallo per criticità idrogeologica su tutte le marche e per criticità idraulica sulle zone di allertamento 1, 3 e 5. L'avviso è valido fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 18 gennaio. Cambiamo argomento parlando del bando affitti del Comune di Fano. Entro il mese di marzo verranno erogate cifre importanti a favore delle famiglie in difficoltà per un totale di oltre 950 mila euro. Le domande sono quasi raddoppiate rispetto al 2021. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Fano ha ottenuto su scala regionale il contributo più sostanzioso da ripartire alle famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento del canone di locazione. La cifra totale che verrà messa in campo ammonta 958 mila euro. Il Comune infatti anche quest'anno ha deciso di compartecipare con risorse proprie per 170 mila euro. A questi si vanno ad aggiungere 788 mila euro da riparto del Fondo Nazionale gestito dalla Regione Marche. Molte più domande, quindi il fabbisogno è aumentato, sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, però riusciamo a coprire tutte quelle domande che sono ammesse per il 66% del fabbisogno. Infatti se nel 2021 erano state presentate 398 domande e 300 nel 2020, in occasione dell'ultimo bando sono state avanzate 623 richieste, di cui 28 escluse per mancanza di requisiti. Le famiglie avranno tempo fino alla fine di gennaio per presentare la documentazione giustificativa, cioè i vari pagamenti dei canoni effettuati nel corso del 2022. Poi, entro i primi giorni del mese di marzo, si provvederà alla liquidazione direttamente sul conto corrente bancario. Chi rientra nella fascia con un ISEE inferiore a 6.085 euro avrà un contributo massimo di 1.000 euro, mentre se il ISEE si estende fino a 12.170, verrà riconosciuto un importo maggiore che può arrivare fino a 2.000 euro. Questo risultato, ha commentato il sindaco Seri, deriva da una scelta politica ben precisa. Dare una risposta all'emergenza abitativa è sempre stata una delle nostre priorità. L'aumento delle domande, ha spiegato Seri, corrisponde a un aumento del disagio abitativo anche a causa del caro bollette, ha un grande lavoro di comunicazione finalizzato ad arrivare a tutti i cittadini, ma anche alla fiducia verso l'amministrazione che ha aiutato le famiglie nella compilazione delle domande per le quali serviva lo SPID o la carta di identità elettronica. Rimanendo in tema di disagio abitativo, questa è soltanto una delle misure previste? Sì, questa chiaramente è una delle misure e tra l'altro mi fa piacere anche che è il frutto anche di un percorso di condivisione anche con le organizzazioni sindacali, ma accanto a queste ci sono altre misure, altri interventi che l'amministrazione comunale fa cercando di andare incontro a quella che è l'emergenza abitativa perché c'è da una parte il tema, purtroppo anche quello di difficile soluzione che è quello degli alloggi delle case popolari che anche quest'anno vede un incremento di domande ma è che ha a disposizione risorse dal punto di vista della disponibilità di alloggi limitata ma soprattutto interveniamo come amministrazione comunale con convenzioni o contributi, col fondo di garanzia per cercare di, con un elenco di fornitori che hanno partecipato a un avviso, a una manifestazione di interesse e quindi hanno messo a disposizione degli alloggi per le situazioni di fragilità, di vulnerabilità che sono seguiti anche dai nostri servizi sociali per cercare di dare un sostegno e qualora queste famiglie, questi soggetti non riescono ad assolvere al pagamento del canone di locazione il comune, l'amministrazione comunale, i servizi sociali intervengono con l'apposito fondo di garanzia I bilanci dei servizi sociali ed educativi sono infatti in costante crescita in termini di stesa come ha evidenziato l'assessore Cucchiarini, la quale ha ricordato anche la cifra di un milione e mezzo di euro messa a disposizione per ridurre le bollette dell'Atari a famiglie e imprese l'ultima tranche agli aventi diritto verrà rimborsata entro febbraio Il caro bollette, l'inflazione e le calamità naturali hanno messo in difficoltà non solo le famiglie ma anche le imprese il mondo del commercio ad esempio ha sofferto pesantemente l'aumento dei costi energetici e anche nella nostra provincia molte aziende hanno dovuto chiudere i battenti a stilare un bilancio è stata Confcommercio Marche Nord Commercio, turismo e servizi si è appena concluso un anno difficile per le imprese della provincia di Pesero Urbino che hanno subito rincari generalizzati al loro fianco Confcommercio Marche Nord che ha annunciato un cambio di passo e una presenza più assidua con iniziative di promozione per difendere questi settori oltre a valorizzare l'offerta turistica del territorio e il mondo della ristorazione Soprattutto un'azione forte dal punto di vista politico per salvaguardare la vita, la sopravvivenza delle imprese del commercio nei borghi per questo chiediamo una legge per una fiscalità di vantaggio per le imprese nei borghi montani e collinari è una proposta che noi facciamo da anni che oggi trova anche dei riscontri importanti dal punto di vista politico nella nostra provincia ad esempio dal presidente della provincia Paolini ma voglio dire tante iniziative quest'anno sarà l'anno dei 40 anni dei weekend gastronomici l'appuntamento più importante nel settore dell'enogastronomia sarà l'anno di una forte attività di promozione turistica legata al progetto itinerario della bellezza considerando che iniziamo l'anno con un cambio di passo ancora perché sono 21 i comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico per la promozione turistica il 2022 a proseguito Varotti è stato anche l'anno della riorganizzazione con il potenziamento della struttura di consulenza fiscale e amministrativa il rinnovamento di quella sindacale la creazione dell'ufficio comunicazione e immagine l'ulteriore sviluppo di progetti innovativi ad oggi Confcommercio conta 14 sedi, 4.000 aziende associate e 116 dipendenti e collaboratori abbiamo potenziato l'ufficio bandi per assicurare a tutte le imprese della provincia anzi direi della regione il sostegno adeguato quando escono bandi regionali o ministeriali o comunque finanziamenti per il mondo delle imprese ed una delle richieste più importanti che facciamo poi alla politica è quella della definizione di una strategia per i caro bollette cioè non è pensabile che a fronte di un price cap a livello europeo sul prezzo del gas si continuino ad aumentare i prezzi dell'energia elettrica, del gas, del gasolio, della benzina in questo modo sparisce l'imprenditorialità italiana perché chiuderanno migliaia di aziende come già hanno chiuso oltre il 230 nella nostra provincia nel 2022 positivo invece è il movimento turistico in provincia a novembre 2022 sono state registrate più di 3 milioni di presenze con un aumento del 15% rispetto al 2021 mentre gli arrivi sono stati oltre 630.000 con un più 20% superando i dati pre-covid la promozione turistica ci occuperà con tante iniziative incominciamo già questa settimana con la fiera del turismo di Madrid e poi via via fino arrivare a Milano il 13 di febbraio con la presentazione della nuova edizione della guida dell'itinerario della bellezza e il 14 con l'itinerario del mototurismo e poi tutto l'anno iniziative fieristiche, presture, educational con l'agenzia di viaggio pubblicità, promozione, cioè Confcommercio, Peso Urbino, Marche Nord crede che il turismo possa essere la leva fondamentale di sviluppo della nostra economia movimentare il movimento turistico, cioè aumentare il movimento turistico come è accaduto già nel 2022 può voler dire aumentare i ricavi di tutte le attività economiche dal commercio artigianato al mondo agricolo peraltro siamo vicini anche alla costituzione del distretto del cibo di prossimità distretto bio terre marchigiane che avrà un ruolo fondamentale per la valorizzazione della ristorazione e dei prodotti tipici delle nostre aziende Un incidente è avvenuto oggi intorno alle 18.20 lungo la statale 16 a Torrette di Fanno all'altezza dei go-kart una Fiat 600 condotta da un 21enne neopatentato senegalese residente a Mondolfo stava percorrendo la statale in direzione Ancona quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e finendo nel fosso è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale Invece la guardia di finanza del comando provinciale di Ancona ha sequestrato per la confisca l'immobile di un rappresentante di commercio di Senigallia che aveva occultato e distrutto la documentazione contabile della sua impresa nel tentativo di sottrarsi al pagamento delle imposte l'attività ispettiva e le indagini bancarie hanno consentito di ricostruire almeno in parte il volume di affari dell'uomo quantificando un'evasione del fatturato di circa 250 mila euro inoltre è stato accertato che aveva omesso di presentare le dichiarazioni sia ai fini dell'IVA che delle imposte sui redditi pertanto il professionista è stato denunciato per sottrazione e occultamento delle scritture contabili il Tribunale di Ancona in definitiva ha condannato il rappresentante alla pena di otto mesi di reclusione e ha ordinato la confisca dei beni fino all'importo di 40 mila euro Passiamo alle segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione una di queste riguarda via Mura Malatestiane sul retro della scuola Gandiglio una via piena di buche utilizzata in particolare da molti studenti e genitori un'altra segnalazione arriva da Viale Kennedy dove un reporter ha girato questo video per documentare una situazione che definisce di ordinaria amministrazione ma anche molto pericolosa per chi transita a piedo in bicicletta sulla pista ciclabile l'ho segnalata più volte alla polizia locale ha precisato sia telefonicamente sia compilando l'apposito modulo nonostante la segnaletica verticale che indica il divieto di sosta e fermata molti accostano l'auto in curva Il Polo 3 di Fano amplia l'offerta formativa con un nuovo indirizzo di studi dedicato alla gestione delle acque e al risanamento ambientale sentiamo i dettagli nel servizio di Massimo Foghetti È stato attivato tra gli indirizzi di studi del Polo 3 di Fano che già contempla il corso tecnico Apparati e Impianti Maritimi Archimede il tecnico economico Battisti il tecnico di grafica e comunicazione Seneca il professionale servizi commerciali Olivetti il professionale manutenzione e assistenza tecnica Volta il nuovo indirizzo sulla gestione delle acque e sul risanamento ambientale un corso che vede la collaborazione della Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Urbino e dell'ASET SPA l'azienda fanese che gestisce il servizio idrico nel territorio Si tratta di un corso quanto mai attuale e dalle grandi prospettive occupazionali che è stato presentato dalla dirigente Maria Eleonora Augello È proprio una formazione con un'attenzione particolare all'ambiente in generale e all'ambiente che gravita attorno al mondo dell'acqua in particolare I dissesti idrogeologici che vediamo in giro un po' in tutta Italia non solo nel nostro territorio sono dovuti forse a scelte di progettazione di gestione del territorio di investimenti nel territorio sbagliati e mancanza di investimenti nella gestione degli invasi ecco perché penso che nel futuro ci sarà bisogno di un grande investimento in questo settore quindi personale qualificato, tecnico, con competenze specifiche che sa utilizzare le strumentazioni che sono necessarie in questo settore che sono strumentazioni particolari sia sicuramente una delle professioni del futuro non a caso la slide si intitola la scuola che forma professioni del futuro non aveva senso iniziare dare origine ad un nuovo indirizzo tecnico, professionale che fosse ma con una professione già consolidata nel tempo che già esiste come offerta formativa dobbiamo pensare e guardare al futuro è questo che penso sia uno dei compiti della scuola quella di esperto nella gestione delle acque è una figura carente nel territorio è per questo molto attesa da aziende come l'Aset Spa il cui presidente Paolo Reginelli ha messo in evidenza le opportunità lavorative abbiamo notato che ci sono delle difficoltà oggettive nel ricercare determinati personali con determinati skill professionali quindi abbiamo sopperito per molto tempo con l'esperienza di operatori che sono arrivati in determinate situazioni e hanno aumentato le loro capacità organizzative e tutto il resto quindi non ci dispiacerebbe che si creassero dei nuovi posti di lavoro proprio tramite queste nuove professionalità pensiamo che siano delle esigenze che non riguardino solo l'Aset ma tutta una serie di realtà che agiscono sul territorio e che hanno le nostre stesse problematiche quando ci è stata proposta dal polo scolastico in particolare dal preste questo genere di situazioni abbiamo diritto con grande piacere l'aspetto sanitario e ambientale del nuovo corso è stato sottolineato dal professor Mauro Magnani dell'Università di Urbino troppo spesso noi non abbiamo la piena consapevolezza di quanto sia importante come diceva lei nell'industria nella nostra vita quotidiana ma anche per tante altre cose forse meno percepite meno famose ma assolutamente importanti Come può l'Università sostenere questa iniziativa? Cercando di creare questa consapevolezza attraverso l'impiego dell'acqua sono nate anche nuove tecnologie sono nati nuovi materiali sono nati nuovi metodi diagnostici per esempio oggi attraverso l'acqua noi siamo in grado di riuscire a capire quanti farmaci in una città vengono impiegati quanti virus in un certo giorno in una città sono presenti e quali sono le possibilità che noi abbiamo per fare sì che attraverso nuovi materiali possiamo garantire la purezza la salubrità di queste acque perché possiamo poi utilizzarle appieno Dopo due anni di stop a causa della pandemia domenica scorsa in piazza 20 Settembra Fano si è celebrata la tradizionale benedizione degli animali c'era per noi Cristiana Guerra Il 17 gennaio si celebra Santa Antonia Abate una ricorrenza molto sentita in tutta Italia perché si tratta della festa dedicata al santo protettore degli animali ogni anno sin dall'antichità si portavano a benedire gli animali domestici e per chi abitava in campagna quelli delle stalle anche a Fano dopo la pausa dovuta alla pandemia è tornata domenica mattina la tradizionale benedizione in piazza 20 Settembre organizzata dalle giacche verdi dal CB Club Mattei insieme al soccorso cinofilo nautico K9 e con il patrocinio del comune di Fano la celebrazione rappresenta un incontro tra le persone e gli animali è un momento di preghiera rivolta agli amici quattro zampe che con la loro presenza regalano compagnia e affetto nella vita quotidiana alle 10.30 la solenne benedizione impartita dal parroco del Duomo Don Giorgio Giovannelli che ha sottolineato l'importanza di un rapporto di rispetto e fratellanza l'animale è importante c'è una presenza importante della sagra scultura quindi diciamo che la circostanza di questa mattina diventa un momento di riflessione anche di rendimento di gloria a Dio di ringraziamento e di riflessione sul nostro rapporto con gli animali sul rispetto che siamo chiamati ad avere nei loro confronti e anche nei confronti del creato quindi ringraziamento per la provvidenza ringraziamento per questa presenza e anche riflessioni su come impostare rettamente il nostro rapporto con gli animali all'interno della società contemporanea e soprattutto con il creato che un giorno dovremo anche consegnare alle domani e alle future generazioni una piazza gremita di padroni con i loro fedeli amici tanti cani qualche gatto chiuso nella sua gabbia diversi conigli e oltre 15 cavalli che hanno invaso complice anche il bel tempo tutto il centro storico è una tradizione legata al nome delle giacche verdi infatti la benedizione degli animali proprio si abbina perfettamente un po' al nostro stile stile di vita alle basi che fanno della nostra associazione una particolarità quest'anno oggi è la prima giornata delle tre organizzate dall'associazione nostra ci vedrà poi la prossima domenica il 22 di gennaio in piazza del Popolo a Pesaro e nel pomeriggio sempre del 22 gennaio siamo a Fermignano che organizziamo la tradizionale benedizione diciamo che la prossima domenica sarà quella al mattino sarà quella un pochetto più impegnativa perché solitamente portiamo circa 100 cavalli in piazza del Popolo a Pesaro Fanno rimane una piazza un pochetto più piccolina però per la città di Fanno e per noi è sempre molto molto importante a conclusione della mattinata le giacche verdi hanno distribuito i panini i biscotti e le carote per la felicità di tutti gli animali presenti il sindaco di Fanno Massimo Seri ha voluto festeggiare il compleanno di Ilde Uguccioni il residente a Fenile che ha spento 100 candeline insieme ai suoi affetti più cari al parroco Don Giuseppe Tintori Ilde nasce da una famiglia contadina ha spiegato il sindaco la prima di quattro figli e ha aiutato la mamma a crescere i suoi fratelli e sorelle sposata con Attilio e diventata madre di tre figli una vita di fatiche quella di Ilde che ha messo sempre davanti il bene della sua famiglia molto scaramantica ad ogni suo compleanno ripete che sarà l'ultimo ma facendo così è arrivata a 100 venerdì 20 gennaio Fanno TV trasmetterà in prima serata il documentario con foto e video inediti dell'archivio di Del Bianco per i 50 anni dello studio un tuffo nella società fanese dalla fine dell'Ottocento ad oggi Dopo il grande successo riscosso al Cinema Politeama torniamo indietro nel tempo venerdì sera per vivere la Fanu Kifu con filmati e storie inedite del vostro archivio Esatto in occasione dei 50 anni dalla fondazione del nostro studio abbiamo realizzato questo documentario strutturato su più episodi della durata complessiva di un'ora e quaranta che cerca di proporre al pubblico fanese storie immagini e personaggi caratteristici della nostra città la proiezione è avvenuta il 19 dicembre presso il Cinema Politeama è stato un grande successo per noi una serata bellissima purtroppo molte persone sono rimaste fuori dal cinema e quindi abbiamo pensato che potesse essere bello poter organizzare una nuova proiezione una nuova trasmissione e grazie a voi di Fanno TV possiamo proporla al pubblico che cosa potranno vedere nel dettaglio i telespettatori avremo la possibilità di vedere delle immagini e filmati per la gran parte inediti ce ne sono alcuni veramente interessanti avremo la possibilità anche di parlare di ricordare il grande pittore Tom Storer attraverso la sua pittura e vedremo anche gli unici frammenti filmati che ritraggono l'importante pittore inglese ci sarà la possibilità anche di poter osservare i cambiamenti architettonici che la città ha subito nel corso di questi anni per esempio avremo la possibilità attraverso un filmato dell'archivio luce di vedere la vecchia cinta muraria prima che venisse abbattuta per la nuova riqualificazione del pincio quindi sarà come fare un viaggio nel tempo dentro la nostra amata Fanno quindi vi aspettiamo venerdì 20 gennaio alle ore 21 per poter assistere insieme al nostro nuovo documentario il palinsesto di Fanno TV si arricchisce anche di un nuovo programma dedicato allo sport subito dopo il telegiornale prenderà il via sportissimo condotto da giornalista Andrea Maduzzi buonasera Andrea buonasera grazie dell'invito stasera inizia questa nuova avventura fatta di storie immagini protagonisti del nostro territorio per raccontare appunto tutto quello che accade nel mondo dello sport il tentativo è quello di occupare uno spazio vuoto quello appunto legato all'approfondimento sportivo proveremo a raccontare il piccolo grande mondo di questo territorio attraverso le sue espressioni più note quelle che quotidianamente catturano la ribalta ma anche attraverso le espressioni meno note quelle che la ribalta la conoscono un po' meno chi saranno i protagonisti di questa prima puntata? calcio, pallavolo e rugby per il calcio l'Alma Juventus Fano con il club manager Rino Danielli e con Gianluca Urbinati centrocampista difensore poi la pallavolo con la vigi l'arcapolista solitare del campionato di A3 avremo il presidente Emidio Cenerilli e il capitano libero Mattia Raffa infine il rugby con il presidente dell'SPG Fano Rugby Giorgio Brunacci e l'allenatore e direttore tecnico Walter Colaiacomo appuntamento che si ripeterà ogni settimana? esattamente ogni martedì sera vi aspettiamo grazie Andrea Maduzzi voi rimanete sintonizzati sul canale 19 il TG invece torna domani sera alle 20 e 30 buona serata a tutti grazie a tutti